Bocciato sempre l'operato di Renzi e anche della Serracchiani in Regione? A tutti i livelli quello di Renzi ma credo anche quello della Serracchiani anche se non conosco fino in fondo tutti i punti ma questo lo chiediamo ai consiglieri regionali che l'hanno bocciata quindi come immagino ma soprattutto la boccio come vicepresidente del Partito Democratico.